il pannello integrativo di incidente 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 il pannello integrativo indicato un incident e'accident strada le sattacke opper e'acquinti lehazà occorre diminuire la velocità e'acquo c'è chiacchia che abboni speed ko aesta carlo e'acchia indica strada d'ruccio l'evole e'acchia d'ruccio l'evole e'acchia d'ruccio l'evole e'acchia falso carrenge indica di fermarsi è dar la precedenza a destra e'acchia indicate invece scrivo l'evole anche di sottacoltare scorpioni storia slatori strada che è un pannello integrative che è di un pannello integrative che è di un pannello integrative fino a che inizia si chiama inizia presenta per il panello di integrativa ora figurato per la presenta di binare binare di manora di ricordo e di scali merchi che già con il passaggio inizia di scali merchi che si domani che un'aria 3 sata per i gari di modellismo telegari di modellismo ma fai model valli co gari in que faccio li e e qui ria benai gaya falso karenge indica di fara tensiñone per che la strada può essere attraversata di tram che dai tram a te ha reccio che non padeghi qu'io che strada già era attraversata dai tram e tram che già conosco cross il panello è integrative, fraffiero tovar rispetto a tutti i condituenti dei treni, che questa è la sinali che vanno, rispetto a tutti i condituenti dei treni, questa è la tua direzione, la tua direzione è rispetto a tutti i rispetto, quindi faccio la mia vita, perché la guà di un'auto, sta la guà della guà di di binari posto sotto il segnale e altri pericoli che è questo che non c'è il legato. Indica attraversamento, che è indicato che l'attraversamento è di binari di manovra, binari di manovra è uno che è attraversamento, è uno che è crossing, quindi vero che è uno che è, binari di manovra è il pannello. Invece a diminuire la velocità, che è invitato che abbiano un spirito slow, perché è un pericolo che abbiano un spirito slow che iniziaz, questo è un segnale, questo è un segnale, è un segnale, che è un segnale integrativo è, che è un segnale, che è un segnale, è un segnale, che è il nostro corso di www.mesmerism.info di macchina gombraneve al lavoro sulla strada. Il pannello integrativo raffigurato è abbinato al segnale di altri pericolos e sanno che c'è altri pericolos che c'è sanno che c'è la macchina gombraneve. Il pannello integrativo raffigurato invita a diminuire la velocità che vi ho spiegato per la presenza di macchina gombraneve in funzione. Il pannello integrativo raffigurato invita a mantenere una distanza di almeno 20 metri dalla macchina gombraneve con il funzione. Asi dice che c'è il pannello che interno della placcia di raccina che si sono più dici. Ciò che si è un spiegato con il funzione. Si ho spiegato di di scritto in un quinto un il pannello che non è possibile. Il pannello che si è un pannello che di strano, mettiamo in due strano di distanza di distanza. il panello integrativo prestare tenzione a tutti i miei macchina sgombra neve sulla strada posto su strada in avate per signalare la presenza di macchina sgombra neve con il nostro corso di macchina sgombra neve il panello raffigurato indica raffigurato obliga ai di stante di di infunzione indica percorri 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 che indicate che che si 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 27 si se si Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.